Deve ancora passare il vaglio del Parlamento, ma la messa in sicurezza del tratto di Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca sembra sia sulla strada buona, grazie anche all'urgenza introdotto dal crollo del Ponte Lenzino dell'ottobre scorso. Nel pomeriggio di oggi è stato consegnato alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera lo schema di decreto del Governo con cui si dispone la realizzazione di opere di particolare urgenza su tutto il territorio nazionale. Tra queste, oltre alla costruzione del Ponte Lenzino provvisorio già iniziata in sostituzione di quello crollato e la successiva costruzione di un ponte definitivo, figurano anche l'allargamento della sede stradale, la rettifica di numerose curve, la razionalizzazione degli innesti sulla viabilità principale attraverso la realizzazione di viabilità di servizio, sette nuove rotatorie, un viadotto di 180 metri sul rio Cernusca a tracampate, una serie di interventi dal costo di 149 milioni per un ammodernamento completo degli 11 chilometri interessati che presenteranno alla fine una corsia per senso di marcia e una larghezza complessiva della strada di nove metri e mezzo. L'iter legislativo non è ancora concluso in quanto gli interventi devono essere discussi nelle commissioni per l'elaborazione del parere parlamentare.